Buongiorno ragazzi io sono Marco di Dumbledore Session, vi do il benvenuto in questo nuovo video oggi parliamo di Andrew Jacked che ha postato ieri questo video della condizione a due settimane dal Texas Pro dove parteciperà al suo primo contest da pro ricordo che lui ha vinto la ProCard nell'Arnold Amateur, penso a marzo, quindi pochi mesi fa ok, questa è la sua condizione a due settimane dal contest come possiamo vedere, qualità veramente ottima, muscoli veramente enormi separazioni devastanti, l'unica cosa che non è un po' timida, la dico subito sono sicuramente i polpacci in proporzione ovviamente alle cosce e all'upper body che poi lui è anche molto alto, ha queste braccia abbastanza lunghe che non sembrano perché sono veramente enormi front last spread dorsali leggermente stretti, tra virgolette ovviamente questa è una side chest e qua muscoli dappertutto veramente no, c'ha sto petto gigantesco, queste spalle enormi qua last spread from back esagerati veramente poi vediamo qua un side triceps veramente devastante queste braccia giganti quadricipiti enormi madonna condizione veramente ottima ricordo che il texas pro sarà il suo primo show da professionista e punta a vincerlo, tra l'altro punta alla qualifica all'olimpia diretta e ovviamente io spero di no non perché mi sia sulle palle anzi semplicemente perché Cuclo parteciperà al texas pro e proverà a vincerlo e se dovesse vincerlo si qualificherebbe all'olimpia e questo di conseguenza aumenterebbe in maniera esponenziale le possibilità per Andrea Muzzi di qualificarsi quindi tutto qua semplicemente nulla di personale qui vediamo ancora un po' di di posing possiamo vedere la qualità veramente eccezionale per un neofita ragazzi perché fino a questo io fino a un anno e mezzo fa me lo ricordavo che si allenava con quell'altro la scimmione come cazzo si chiama Larry Wills che mi ricordo che una volta si prese un elastico in mezzo ai coglioni me lo ricordavo solo per questo mentre invece quasi veramente negli ultimi due anni passi da gigante molto giovane veramente veramente pericoloso allenato anche da Flex Wheeler la leggenda sul posing sull'allenamento non so se sulla dieta anche non penso e niente ragazzi questo era solo un piccolo aggiornamento a due settimane dal contest visto che sarà una sfida tra Cuclo e Engeo e interessa anche indirettamente ad Andrea Muzzi per il fatto che vi ho spiegato prima io vi saluto vi ringrazio per gli iscritti vi invito a iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo in palestra nei prossimi video ciao grazie a tutti Grazie a tutti.